Cari amici, fratelle e sorelle, tra poche ore risentiremo le parole del Vangelo che gli angeli rivolgono ai pastori di allora, al mondo di oggi. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato il Salvatore. Sì, abbiamo bisogno di questo annunzio perché abbiamo bisogno di ricomprendere la gioia umana e cristiana. Possiamo correre il rischio di trasformare le nostre paure, la nostra grande paura, in una malattia indemica, difficile da debellare. Eppure la parola di Dio risuona con insistenza. La congiuntura e la crisi socioambientale e sanitaria potrebbe anche uccidere la fiducia e la speranza, ma interviene la parola di Dio, interviene la promessa del Dio con noi. Ecco, io sarò con voi per sempre. La gioia cristiana non è gioia di distrazione, non è dissipazione. La gioia cristiana coincide in una rinnovata relazione con Dio, con i fratelli, con noi stessi. È soprattutto una gioia che nasce anche dalla consapevolezza del nostro limite umano e creaturale. Sì, perché il Natale non è solo una festa cristiana. È una festa che avvolge di questo annunzio di promozione dell'umano cristiani, credenti, non credenti. Nel Natale c'è la ricomposizione di tutti i conflitti, di tutti i dualismi e soprattutto al centro c'è l'annuncio di un Dio che eleva l'uomo alla dignità divina. Ecco la ragione della nostra gioia. Una ricomprensione di noi stessi, un abbraccio a quanti vivono nella sofferenza e nel dolore, uno sguardo lungimirante verso i nostri giovani, i nostri ragazzi, verso le nostre famiglie. Siamo certi che in un rinnovato legame di fratellanza verremo fuori con responsabilità, impegno e generosità da questo triste momento. Auguri di Buon Natale a tutti!